Sarmeola di Rubano, il pubblico ministero ha chiesto tre anni e cinque mesi per Filippo Peraro, il gestore del bar Oasi di Sarmeola di Rubano, saltato in aria la notte del 28 settembre 2012. Secondo l'accusa sarebbe stato proprio il titolare il mandante dell'esplosione che ha distrutto il locale. Il barista avrebbe progettato poi la fuga alle canarie con i soldi intascati dall'assicurazione.